Mi fa specie che pure dalla cucina, meno che non stai operata, dalla cucina sembrava anche una tenera ragazzina, ma è così che ti fregano, da piccoli, non vi mandano a scuola perché non vogliono che siate porti, se no non vi fregano abbastanza, capito? Abbiamo perso già tanta gente per colpa di questi soffrusi, persone che si sono suicidate, lo sapete? Perché sono state inquisite, perché non avevano i soldi per pagare la tassa. È difficile stare anche sul palcoscenico, è anche un po' imbarazzante, vi confesso, perché io sono cresciuto a mia pure spese, ma non ho avuto quella leggerezza lì. Ho avuto una forte componente che è quella dell'amor proprio, di non voler arrendersi, di non farsi mettere i piedi in faccia. Noi siamo qui anche per questo, anche per regalarvi un po' di sicurezza, per togliervi un po' di queste paure da intorno. Queste canzoni sono le mie figlie, le ho cresciute, le ho portate fino a questo palcoscenico di Milano qui stasera. E non è stato stato, assolutamente, assolutamente io. La cosa che mi raccomando è di andare a letto e riuscire a non pensare più a tutta questa crudeltà, a questa prevaricazione, a tutto questo abuso. E di fare dei sogni belli, sereni, perché questo ci dà la possibilità all'indomani di essere pronti e di essere ancora più determinati a raggiungere un risultato. La vita è vostra e di nessun altro. Al pianoforte il grande e stupendorativo maestro Stefano Senesi. Grazie. Grazie.